Ragazzi oggi vi porto in un luogo magico dove si respira aria di casa. In questo paradiso potrete assaggiare piatti tipici della tradizione salentina, dagli antipasti fino ai secondi. Ve ne dico solo alcuni, pezzetti di cavallo al sugo, sagne al sugo, tutto davvero molto buono. Segnatevi questo nome, Agriturismo le Tagliate Augiano la Chiesa, fatemi sapere se ci siete mai stati.